Musica Musica Oggi cominciamo l'accolta di film per 7 proposte di legge Iniziativa Popolare Tre derivano direttamente dal programma del PDL E sono per il rilancio dell'economia Sono le proposte di legge per abolire l'Imo sulla prima casa Per fare in modo che ci sia una riduzione di poteri su Equitalia Cioè fare in modo che ci sia realmente una situazione In cui Equitalia non abbia più le unghie pesanti Le unghie dure, le ganasce fiscali Su quella che è la nostra attività quotidiana Spesso accade che per pochi euro Per poche migliaia di euro Avvengono epiduralmente molto gravi Terzo tema è l'occupazione giovanile e femminile Noi dobbiamo dare una grande spinta Con la defiscalizzazione per promuovere l'occupazione Queste sono le tre proposte di legge iniziativa popolare Che derivano dal programma economico del PDL Poi ce ne sono altri quattro Queste quattro sono le leggi Che sostanzialmente ci devono aiutare A mantenere il decoro della città E a garantire la sicurezza Si chiede giustamente ai sindaci Di fare in più su questo versante Noi siamo impegnati in questi cinque anni Ma i nostri poteri sono molto limitati Ecco perché vengono fuori queste quattro proposte di legge La prima è per introdurre il reato di prostituzione in strada Noi quando interveniamo contro la prostituzione in strada Contro le prostitute Possiamo soltanto fare delle contravvenzioni Ci vuole un reato penale Secondo tema Quello sul vagabondaggio E quello sull'occupazione abusiva Sull'accampamento abusivo Dobbiamo avere la capacità di dare anche qui Delle norme più severe Perché noi in questi anni abbiamo fatto 1.075 sgombe di accampamenti abusivi E purtroppo però ogni volta che abbiamo sgombrato Ogni volta che siamo intervenuti Questi accampamenti si sono riformati Con questa legge si rende definitivi questi interventi Il terzo tema è invece legato al commercio abusivo Anche qua vediamo tanti WCupra in giro Vediamo tante bancarelle abusive Dobbiamo avere delle norme penali più dure Per contrastare questi fenomeni Altrimenti ci sarà concorrenza sleare per i nostri commercianti E il degrado nelle nostre città Quarto punto è quello di intervenire Su quelli che sono i poteri di ordinanza dei sindaci Era un potere che noi avevamo in maniera molto forte In base al pacchetto Maroni Poi è intervenuta la colta costituzionale Che ha depotenziato questo potere Oggi viene ripristinato attraverso dei piani Compressivi sulle città Per individuare quelle che sono le criticità urbane In base a questi piani concordati Con l'autorità di pubblica sicurezza Il sindaco torna di nuovo a avere poteri di ordinanza molto incisivi Insomma con queste leggi Si dà un segnale di intervento al Parlamento nazionale Si spiega al Parlamento nazionale Che non si possono lasciare i sindaci da soli Ma si denuncia anche la situazione difficile In cui vive la nostra città Dal punto di vista economico E dal punto di vista dell'ordine pubblico E della lotta al degrado E della lotta al di grado